Porta da parte del Brescia, si difende bene, alberga, angolo in favore del Bari, il colpo di testa di Amoruso che si fa subito perdonare e raddoppiare il calcio del Bari, calcio d'angolo di Barone, smanacciata di Tontini e semigirata vincente di Amoruso. Per il Cosenza il sapore della vittoria dura soltanto tre minuti, punizione di Amoruso sta affilata in ucidiale e palla in rete. Il calcio ha dovuto subire gli assalti di un Bari che ha raddoppiato al ventiduesimo con un'impressionante incornata di Amoruso. In dieci il Foggia ha... ...in golli pugliesi su punizione abilmente calciata da Amoruso, il vento fa il resto, i fiori non accenna neppure la parata. ...verto Valieri, il Bari dicevamo è passato al quarantesimo, punizione di Barone, poderosa inzuccata di Amoruso per uno schema più volte provato in allenamento.